Salve ragazzi, siamo Gitarre di Giochi, io sono Reckendorf e io Galiav. Siamo comparsi nel video di Super Smash Bros, se non l'avete ancora visto andate a vederlo. Siamo in parte, non siamo comparsi. Noi abbiamo giocato nel video di Super Smash Bros, io ho pure vinto. Però è il primo video in cui compariamo e oggi vogliamo fare un gameplay nostro in cui giocavamo a D&R. Questo che ci sentiamo abbandonati, non partecipiamo mai a niente. Io sono a Pisa, gli altri sono a casa loro, quindi non si può. Praticamente questo qui è un gioco gratis che si trova su GameJolt, che praticamente sarebbe un sito dove si trovano molti giochi indie. Quindi non vi aspettate qualcosa di troppo bello, però neanche qualcosa di pessimo. No, ci sono parecchi giochi belli, giocati personalmente, poi magari un giorno giocherò pure io registrando, però se la musica così canta magari si sentirà poco, però proviamo lo stesso dai, la prima registrazione speriamo vada bene. Quindi, poco fa mi ha detto che la mamma è morta quando io ho così anni. Essere piccola e ignorante, essendo piccola e ignorante, credevo che fosse morta di malattia. Ma adesso, quando sono maturata, riconosco che quelle immagini che vedi allora, sfocata e non chiara, erano le immagini di un coltello di un corpo morto, di un cadavere. Ho cominciato gradualmente a capire tutto, perché papà mi ha sempre detto che la vendetta non era buona, e perché dovevo sempre essere gentile e tollerante con le altre persone. Ha anche detto, la felicità e la gioia vengono, ah, sarebbero venute da me se avessi aiutato altre persone. E adesso mi sto aiutando. Da solo. Da solo. Vabbè, sto aiutando me stessa. Assassino. È un bel, però, caratterizza i personaggi in questo momento. Sì, allora, andiamo ragazza, combatti, non lasciare che ti prenda, non ti preoccupare padre, presto mi recupererò. Mi riprenderò. Mi riprenderò. Questa è la mia ragazza. Guadirò. Guadirò. Noi siamo termini molto... Questa è la mia ragazza. Ehi papà, promettimi che non mi lascerei, per favore. No. No. Perché dici questo? L'ultima notte ho sognato che tu te ne andavi. La scorsa notte. La scorsa... Ehi. La scorsa notte ho sognato che te ne andavi e mi hai abbandonato. Mammina. Poi papino. Io non voglio. Punti, punti, punti. Ma tutto bene. I won't... E non me ne andrò. E non sarei sola. Perché noi siamo davvero internazionali. International. Con la sc. Promesso? Eh? International. International. Promesso? Promesso. Ma sicuro? Ehi. Allora puoi essere sicuro. Dormi Anna. Ti vado a fare il... Cioè. Pranzo. Ti preparerò il... Pranzo. Ah! Ti preparerò il... Il ceno. Naturalmente. Il ceno. Ma non è il ceno. Sì. Ma c'è il colaziono. Il cernanzo. Dai Anna. Non ti posso doverere. Non posso dover. Sì. Penso che... Strammazzerò a terra prima della fine del video. Ho un coltello vicino. Ma non è vero. Sì. Quindi... Questo è dove vive. Un piccolo cottage... Carino. Nella foresta. Un piccolo e carino cottage nella foresta. Vedi che si è visto. L'axo. Può essere ancora così. L'axo che significa? Non era lassativo tipo l'axo. Dove essere ancora così lassativo. Dove ha fatto quello come madre. Non so come significa lassativo in inglese. Però... Penso che si riferisca al fatto che... Già un così tranquillo. Sì. Deve aver fatto quello per la mia... Animale. Senza vergogna. Deve... 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 Devevi... Vivere veramente senza... Felicemente. Devevi... Devevi... Devevi vivere veramente felice. Quell'assassino. Ma non durerà lungo. Cioè... Il processore... Ehi abbiamo un coltello anche noi. Oltre... Vedi oltre a te c'è anche... La signorina. Diccio nascia. Eh ma ne abbiamo... Scusa... Non lascio come fai... Fai spawn di casa. Uso un zecchio. Uccido gente con i zecchi. Non c'è davvero un zecchio. No. Sembro più una cassa con qualche cosa. Una cassa con le mele. Mmm buone. Uccido gente con i pantaloni. Secondo me funziona. Lo strangoli con i pantaloni. Sono pure gente con i resistenti. Ehi si potrebbero strappare. Dai vai seriamente. Un giardino. Credo dovrei entrare in casa. Però a me piace girare un pochino. Sì non si sa mai che... Ci sia qualche cosa di nascosto. Trovi tipo... Una navetta spaziale che ti porta su un marto. Così c'è. Allora abbiamo tre possibilità. Bussa. Cominciare dalla prima e vedere che succede nel caso rigiocare e vedere cosa succede se vede altre. Bussa. E la cacca però. Stiamo spondando la porta. Assassino arrivo. Sto arrivando. Tu sei... Adesso la verità... Oh ai. Direi facciamo sempre la prima. Ok. In questo modo non perdiamo niente. Vedi da. Ti ricordi me? Non... Mi spiace ma non capisco cosa lo intendi. Smettila di fingerti innocente. Non ti ricordi quella donna con una bambina chiamata Red? Vabbè? Non so se... Red che hai ucciso. Ma che cavolo? Tu sei pazza. Non ho mai fatto del male a nessuno. Adesso ti ricordi? Questa è la tua arma dell'omicidio. Lo userò per tagliare via le limbs? Labbra? Sì. Tagliarti le labbra. Me lasciarti immobilizzato tra l'inferno e la realtà. Non è brillante? Aspetta. Stai sbagliando. Dillo alla mamma. Ti prego. Ho una figlia. Lei ha bisogno di me. Ti prego. Per favore. Oh. Quando mia madre è morta. Lei aveva me. Anche. Non proibita per me. Anna. Eh. Ci ho scoperto. Direi. Bravo. Scappa. Non è una buona... Vabbè. Non è bello senza resistenza. Esattamente. Anna. Tesoro. Svegliati. Abbiamo un assassino fuori casa. Dobbiamo scappare da qui. Dobbiamo uccidere qui. Che c'è? Dobbiamo andarcelo ora. Il pozzo è la risposta. No. Dai. Perché? Andiamo a bussare di nuovo. Anche se ci apre di nuovo. Rotta all'interno. Wow. Ha chiuso all'interno. Rompio i glass. Sì. Glass. C'è un problema tra English e Italian. Traslitterazione. Perché noi siamo troppo international. Adesso ci... Mischiamo. L'italiense. Oh. Allora. Spacchiamo il vetro. Se rompiamo il vetro sicuramente entriamo. Quindi io direi che... Sono un violento. Però adesso dovremmo rigiocare tutto per vedere cosa succede. Dovremmo giocare almeno 3.000 volte. Non spieghi. Vabbè. Andiamo. Non penso che succederà niente di particolare. Ah. Si è fermato. Punto. 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 Che succede? Aspetta ho visto muoversi qua sotto. C'erano quei cuscini. Ah. Si è ragione. Non penso sia un buono. E quindi? Quindi? Penso che siano riusciti a scappare. Pare. Ok. E' finito. Basta. Per qui è tutto. Era dei giochi. No. Proviamo a fare tipo qualcosa altro in modo tale da creare diversi finali. E' possibile visto che c'era così tante scelte alla fine. Pareva un po' costano. Ok. Siamo tornati. Ma mi sai che si può salvare? 10. 10. Si. Prova a creare zero. Vediamo un po'. Ehm. San san san. Vi ho facciato il coltello. Vediamo. 0. Ah. Salve se esce il gioco. Salve. Fai l'uno. Ok. Perfetto. Torniamo dall'amico padre. Io direi di bussare di nuovo. E fare la verità. No. Prima abbiamo fatto la verità. Adesso ci facciamo la verità. Ah già. Ora mentiamo. In realtà. In verità noi potremmo ancora dire la verità e poi non fare niente quando dobbiamo entrare in casa. Ma proviamo a fare questo. Verità e poi non facciamo niente quando dobbiamo entrare. Allora adesso bussiamo e diciamo una bugia. Sì. Spondiamo la porta come sempre. Un attimo. Abbiamo fatto il fatto di dire la verità e di non fare niente. Non succede niente. Semplicemente ci ripete il fatto di dover bussare o non fare niente. Di rompere il vetro. Sì vabbè. Rompere il vetro e non fare niente finché non rompiamo il vetro. E non cambia assolutamente niente. Quindi. Questa volta dobbiamo dire una bugia. No. Porca miseria. Abbiamo sbagliato. Problemi. Problemi. Si può. Vabbè. Vai vai vai. Rompi il vetro e entra veloce. Vai dai. Vediamo se siamo veloci. No. È cambiato. Oh. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Credevi di scappare via con la tua figlia. Vuoi uccidermi vero Red? Questa è una domanda superiore. Che domanda superiore. Scusi. Tutto a posto. Ma puoi aiutarmi con quest'altra cosa? Con una cosa? Con una cosa. Chiedere aiuto a qualcuno che ti vuole uccidere. Che è una rabbia. Verso di te. Non mi ricordo esattamente quando mi è curioso ma dovrebbe essere una rabbia. Nice. Vabbè. Geniale. So che tu non abbandonesti una bambina con circostanze come quelle di quando eri giovane. Come questo? Sei sicuro? Potrei semplicemente ucciderla dopo che mi sono preso cura di te. No. Non lo faresti. Oh. Come se mi conoscessi così bene. Non ti preoccupare. Non lascerò la piccola Anna da sola. Grazie Red. E abbiamo fatto un nuovo finale figlio. E poi. Proprio per sbaglio. Sono un genio. Io lo sapevo tutto. Sei geniale. Io lo sapevo tutto. Vabbè che il buffo è geniale. Ok. Facciamone un altro. Facciamo sempre continuiamo a dire ci svoltevamo. Sì, tanto abbiamo fatto tutto. Adesso bugiardiamo un po'. Speriamo di riuscire a cercare di non premere troppo velocemente altrimenti premo compulsivamente. Sì, arrivo. Arrivo. Porca. Porca. Problemi tecnici. Scusatemi. Vuoi che prema io? Ma è troppo difficile. C'è un problema di cui... I dottori mi danno ogni giorno medicina però non funzionano. In vero aggiungiamo quello di una pietra. Eccolo, ce l'ho fatta. Oh. Ruby. Beh, è un genio da Red a Ruby. Credo di essere persa. Fui dammi a trovare la strada per la casa. Oh, che... Com'è raro? Le persone passano qui raramente da questo posto e adesso... Tu si è persa. Haha. No, si sono persa. Vabbè. Eh, sarà difficile. Va a fare il mio meglio. Primo. E... Entra. Oh, grazie mille. Grazie very much. Nascosto il coltello nel migliore dei modi possibili. Di tro il fiocco. Di tro la schia. E se me ne vado tipo faccio troll? Troll? Nooo. Eh, cos'hai detto la schia? Scusami, di solito non ho visita in questo mezzo al nulla. E quindi... Non ho fatto le porte. Ok. Non ho fatto le stanze. Visto che non c'è nessuno, non faccio le porte. Non faccio le porte. Non so che sia. E non ti preoccupare, ok. Non voglio essere un problema. E sto facendo il pranzo per mia figlia, Anna. Ti dispiace aspettare un attimo? Sì. No, posso aspettare. Dopotutto, tua figlia. Non puoi semplicemente lasciarla. Noi riferimenti. Queste frecciatine. Grazie, Ruby. Quindi... Devi saldarla più presto perché secondo me ci saranno altri diecimila vivi da scena. Quindi tu e tua figlia vivete qui da sola. Da soli. Perché vivi in un posto del genere? E' accaduto tanto tempo fa, quando mia moglie è morta. Anna è... Si è malata. E il problema di Anna è incurabile, quindi voglio... E' soddisfare pieno i suoi desideri. Prima che lei esploda. Dai, è commovente. Capisco. Povero te. Un'altra frecciatina. Probabilmente non dovrei premere nessuno di questi... Non dovrei premere su questi bottoni. Su questi tasti dolenti. Traduzione... Masters... Tutte le persone normali le tradurrebbero come... Tasti dolenti. Ce lo dovrei soddizionare. Questi argomenti. E... Punto, punto, punto. Ah, e Ruby... Quali sono... What's your business? Per quali motivi ti sei persa qui? Cosa stai facendo? Certo, facevi qui. Sì, sostanzialmente è quello. Ai. Una missione. Stavo facendo una passeggiata. Mi sono trasferito qui. Questa qua mi sembra proprio stupido. No, stavo guardando. Io facevo una passeggiata. Mi sono perso. Dopo il terzo cartello. 150 km. Dall'ultimo c'è proprio inazzo. Ho capito che mi ero perso. Quindi una missione. Sì, più o meno verità. Sono in una missione. Una missione. Stavo facendo il cacozzo. Freelance jobs. Lavori freelancer. Ah, ok. Sono un freelancer. Prendo richieste per guadagnare monete. Soglie. I money. I big money. Money, money, money. Ah, a Lacta è un gioco. È un lavoro. Prende la fortuna. Diciamo, io ho dipendente dalla fortuna. Ma non mi viene in questo momento un termine più specifico. A culo. Sì. Questo mondo. È everywhere. È everywhere. Allora, quando avremo la traduzione rifaremo il video. Mi faremo sempre da capo. Per il momento prendendola per guadagnare. Faremo year red 2.0. Quindi le bugie... Questa volta traduzione integramente. No, è solo. Quindi le bugie sono sempre sulla faccia delle persone. Sarebbe una traduzione più o meno decente. Direi che è un prof. Reckendorf translator. La mia famiglia è povera. Quindi... Essere ricche non è... Essere fortunati. Ah! Might be unimportant. Dovrebbe non essere importanti. Scusatemi. Finché c'è un numero. Io lo farò. Vabbè, finché c'è qualcosa da fare io la faccio. Penso. Proprio... Un genio. E non so... Che cosa dire. Ma... Stai attento, Ruby. Le persone che... Ah, le persone che fanno questi lavori volontariamente rimangono intrappolati nella miseria per l'anore intere vita. Mamma mia. Tutto di fila. Ehi! Sentono rumori? Ho finito di cucinare? Aspetta fino a quando non do da mangiare l'anore. Nutrito, no? Nutrito? Non do da mangiare, mamma. Vabbè, nutrito. Anche le persone si nutrono, eh? Se invece non è che sono i koalas. I koalas si nutrono. Ok, non possiamo andare... He's feeling the little girl. Quindi non possiamo andare qua. Sta nutrendo. Potremmo andarcene forse, io direi di salvare. Ah, sì, così. C'è un altro salvataggio in questo modo, se ci dovessero essere altre cose. Facciamo così. Così. Quisto che è un bivio continuo, sto gioco. Ok, che facciamo? Usciamo, 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 usciamo. Possiamo andare giù? No, niente, allora rientriamo. C'è un piccione. Piccione, dove è? Piccione, piccione, piccione. Piccione, dimmi la verità. Mi stai trattendo. È un complice, peraltro. Vabbè, è... Sto ancora mangiando la piccola girl. Sariamo. Piccola girl. Troviamo un locarina dal tempo. Parapara, 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 parapara. Foto di una donna. Probabilmente sua moglie. Oppure... Ah no, anche... Un coso, uno... Un set di oggetti da dottore, di strumenti da dottore. No, un oggetto da dottore. Uno strumento da dottore. Sette di... Only a doctor... Hai ragione, scusi. E? E? Linus? E? Questo non può essere. Questa foto. Papà e lui... Si conoscevano. Si conoscono. Si conoscono. Si stai facendo qui. Lai? Eh che cavolo, non finiremo mai sto video. Vabbè, faremo tipo... Cinque finali, infatti. Eh, ma pure... Hai ragione, poi siamo molti privi risultati. Quindi, Lai, TeleTour. Mentiamo, scusatamente. E... Niente. Niente. Cosa? Io? No? Ero solo curiosa. Che stai facendo tu qui? Tu? Che ci fai in casa tua? Ero solamente curiosa, volevo dare una controllatina. Non è più... Non c'è più bisogno di mentire, Red. Aia. Ma io mi chiamo Ruby. Quando avrai tutti i pezzi, la risposta sarà rivelata. Credo che questo qui sia tipo un riferimento al fatto che ci sono 3 milioni di finali. Ma... Quando avrai conosciuto la risposta, non ti... Non ucciderai te stessa? Che significa? Potenti. Aia. Non ho più bugie. Ok, facciamo letterale. Non ho più bugie, Red. Virgola. Perdona me. Ecco. Perdona me. Maria. Marderero. Perdona me, te prego. Te chiero. Perché lo stai parlando con me. Sto solamente facendo quello che lui mi ha detto. Di fare. Pina. Penso che qui siamo andati male noi questa volta. Ok, siamo tornati. Adesso, prima abbiamo mentito spudoratamente, adesso diciamo la verità spudoratamente. Evviva. Perché queste foto? E tu che ci fai qui? Red. C'è sempre una ragione. There's always a reason for you for your being. C'è il tuo essere qui. So tutto. Povera te. Non sarai mai felice. Non sei mai stata felice. Scusi, sbaglia io. Ah, stavolta. Abbiamo fallito. Tuo padre è probabilmente morto ora. Mi dispiace. Sono dispiaciuto, ecco. Scusi. Ma è questo che voleva. Che ha voluto. L'abbè voleva. Ok, non è durato molto. Sì, però adesso sappiamo che quello che è stato fatto è stato fatto per fare Felice Reddo in qualche modo. Uccidendola proprio. No, non è che l'abbiamo ucciso. Allora, vediamo un po' di ripostruire quello che sappiamo che era. Siamo morti. Sì, a parte questo. No, no, no. Ah sì, sì, è vero. Possiamo ancora esplorare. Allora, noi sappiamo che questo assassino qui ha ucciso la madre di Reddo, però conosceva il padre di Reddo. A quanto pare... C'era un bottiglio divino. A quanto pare si conoscevano e il padre avrà detto di fare qualcosa che c'entra appunto con la morte della madre per, a quanto pare, il bene di Reddo. Ok, abbiamo trovato una piccola scatolina. Qua ci deviamo solamente 20 rupie probabilmente. Non ci piace Zelda No, Zelda no Zelda ma di che sia Sembra che ami veramente molto Suo figlio Oh, credo Morissimo, tipo Ehm Il numero 18a5b4 Amnesia È un dottore Il resto sembra essere di ricerca per il modo di curare la sua figlia. E' anticonvenzionale. Di solito una persona quando deve finire di giocare a una partita a endgame, lui invece la finisce. Io muoio invece. No, lui finisce il gioco. E' pronto, tavola, un attimo che finisco il gioco. Ok, adesso dobbiamo fare il file 1 e... Adesso dobbiamo entrare, quindi dobbiamo mentire, entrare e fare... Ah, e cambiare non una missione, ma dicendo che stiamo facendo una passeggiata. Ok. Stavo solamente facendo una passeggiata. Una passeggiata mattutina. E' strano scegliere un posto così desolato. La mia città... My city life... La mia vita di città non sta andando veramente bene. Volevo solamente andare in qualche posto silenzioso dove non sarei stato disturbato a nessuno. Non da niente. Ehi, sei più profonda... Più profonda di quanto pensassi. Suona malissimo. Vabbè. Sì. E' sempre il nostro... Il vostro regendorf di fiducia. Il... Cibo qui. Cibo qui. Ho ho. Mi è arrivato il cibo. Mi è arrivato il cibo. Pizza? Com'è? Fa schifo. I like it. Mi piace. Perché parli in inglese e in italiano dove non... E mi confondo di tanto. Stai sempre ogni giorno migliore. Ah già. Sempre stare ogni giorno. Il giorno è meglio. You are getting style. Sì ma stavo parlando Anna. Anna doveva essere il padre. Ha sbagliato il tizio. Scusi. Significa che prima cucinavo male? Ma Anna sta dicendo che... Stai migliorando nel cucinare ogni giorno. Scusi. Scusatemi. Sempre il cervello a dire. Che funziona bene. Dottori. Hi hi. Chi è lei? Giacchè no? C'è una tizia. Ah lei è Ruby. Mi ho promesso di riportarla a casa. Ruby è carina. Ehm. Grazie. Sì. Grazie. Shish. Ehm. Rimetti di presto Anna. Torni in salute. Al più presto. Ehm. Probabilmente dovrei andare. Riposo di Anna. Sarò qui molto... Subito. Sarò qui subito. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Shish. Continueremo a ripetere tutti i video shish. Mi sa che questa qui sarà l'ultima... Della giornata. Perché stiamo quasi intorno a... Spontano a mezzanotte. Infatti. La mezzanotte non la mezzanotte porca. Probabilmente con Italia vabbè diventano... Grazie per essere qui Ruby. Sarò una... Un ospite temporale. Un ospite visitatrice momentanea. Momentanea. Ma hai... Illuminato l'atmosfera. Scusami se mi sono sembrato strano. Qualche volta non posso vedere le cose qui dentro. Quando vai in bagno. Ora provo a ricordare da quale strada sei arrivato. Seguimi. E questo mi sembra strano che uno ti dica prima di ricordare che strada e poi ti dica seguimi. Vai, vai avanti tu che mi segui. Sto sbagliando qualcosa? Ed è veramente... Non hai letto something? Non lo so però. Si chiama traduzione... Ad... Come era? Ad Sensum. Ad Sensum. Esatto. Veramente è l'uomo che sto cercando. E se lui... Allora... E quello che sto facendo... Is what I'm about to do... E quello che sto per fare... Es... Senza senso. Ah si è molto buono. Hmm. Non mi penso. No. O è tornata ma non so. Ha ottenuto il super finale fighissimo. Si. Probabilmente ne beccheremo uno ancora migliore nella prossima mutata. Un modo migliore o... Un modo ottimo. Ottimissimo. Ottimare il modo al finire. Shhh. Andiamo ad atmosfera un momento. Forse è meglio così. È meglio così. Amada kedavra. Che dobbiamo dire. Amada kedavra. Ok. Quindi in questo finale semplicemente abbiamo visto una figlia che in te li muovo. E riguarda la storia di Red. E abbiamo ottenuto finalmente il finale in cui non muore nessuno. Grazie a Cielo. E abbiamo ripreso il nostro coltello. Ok. Abbiamo semplicemente ripreso il coltello e ci siamo andati. Chissà perché l'avevo conosciuto dentro. Vabbè perché non puoi portartelo in giro per la passeggiata. E quel coltello no me l'avevo portato per accogliere le more. Vabbè. Speriamo che vi sia piaciuto questo primo episodio di Red. Qualmente ci sarà un altro episodio se siamo portati pure un terzo. Se ci sono molti finali. Di sicuro. E vi lasciamo con questo Red. Un video esistenziale. Che cosa succederà nella prossima montagna? Chi vincerà? Chi verrà? Ma soprattutto chi subirà la Loser Challenge? Da Stefano Neptune. No scherzo. Ciao bello. Vabbè. Da Reckendorf. E Gagliel. Vi salutiamo e sognateci stanotte. Ricordatevi di mettere mi piace. Perché vi è piaciuto. E voi lo sapete che vi è piaciuto. Ok. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.